I cristiani amano, ma non sempre sono amati. Sono uomini e donne controcorrente. È il profilo tratteggiato da Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale dedicata alla speranza cristiana come forza dei martiri. Il Pontefice ha ricordato che il mondo è segnato dal peccato, che si manifesta in varie forme di egoismo e di ingiustizia, ma ha affermato che chi segue Cristo cammina in direzione contraria, secondo una logica di speranza che si traduce in uno stile di vita indicato da Gesù. La prima indicazione è la povertà, perché un cristiano è distaccato dalle ricchezze, dal potere, da se stesso, non risponde al male con il male, ma con prudenza e scaltrezza. L'unica forza del cristiano, ha detto il Papa, è il Vangelo e la persecuzione non è la sua contraddizione, ma ne fa parte. Non bisogna mai perdere la speranza, perché nessuna sofferenza, anche la più nascosta, è invisibile agli occhi di Dio. Mai dunque persecutori, ma perseguitati, non arroganti ma ammiti, non venditori di fumo, ma sottomessi alla verità, non impostori ma onesti. La fedeltà allo stile di Gesù, ha ricordato il Papa, veniva chiamato dai primi cristiani martirio, che significa testimonianza, un nome che profuma di discepolato. I martiri accettano di morire per fedeltà al Vangelo, ma il martirio non è l'ideale supremo della vita cristiana. Al di sopra di tutto c'è l'amore verso Dio e il prossimo. Ripugna ai cristiani l'idea che gli attentatori e i suicidi possano essere chiamati martiri. Questi non sono martiri. Non c'è nulla nella loro fine che possa essere avvicinato all'atteggiamento dei figli di Dio. A volte, leggendo le storie di tanti martiri di ieri e di oggi, che sono più dei martiri dei primi tempi, rimaniamo stupiti di fronte alla fortezza con cui hanno affrontato la prova. Questa fortezza è segno della grande speranza che le animava. La speranza certa che niente e nessuno li poteva separare dall'amore di Dio donatoci in Gesù Cristo.